Ho pensato per un'intera settimana ad un'introduzione per questo video, mi ha anche tenuto sveglio la notte, sarò sincero, ma conoscendone il contenuto non mi è venuto in mente niente che potesse davvero funzionare, qualsiasi idea sembrava superflua di fronte agli orrori che stiamo per scoprire insieme. L'argomento di oggi, l'avrete capito, è estremamente ostico. L'ho evitato per tutti i tre anni di attività su YouTube nonostante le numerose richieste perché sentivo che era semplicemente troppo, ma finalmente mi sono deciso perché, ahimè, in fondo, il Giappone è anche questo. Spero che YouTube sarà clemente che non tirerà giù il video o non lo metterà sotto limiti ad età. Ciò di cui parleremo oggi è un vero e proprio massacro, uno dei punti più bassi che l'uomo abbia toccato in tutta la sua storia, perpetrato dall'esercito nipponico ai danni del popolo cinese. Vi avviso, onde evitare di urtare la vostra sensibilità, che nel corso di questo video si faranno menzioni ad atti di violenza indicibile. Preferisco dirvelo adesso ed evitarvi brutte sorprese poi. Partiamo quindi dal principio, da ciò che ha portato alla strage divenuta nota nella storia, come il massacro di Nanchino. Le storie dei paesi asiatici, compresi ovviamente Cina e Giappone, sono sempre state fortemente intrecciate, segnate da un rapporto di coesistenza e di reciproche derivazioni socioculturali. I due paesi in particolare hanno visto uno sbilanciarsi dei rapporti costante nel corso dei secoli, un continuo mutamento che nel 1894 avrebbe portato allo scoppio della cosiddetta prima guerra sino-giapponese. Le premesse di questo conflitto ruotavano attorno alla penisola coreana, controllata dalla Cina e ricca di risorse sulle quali i giapponesi erano pienamente intenzionati a mettere le mani. Il Giappone in quel periodo stava affrontando i suoi primi anni a seguito di secoli di isolazionismo e la messa in atto delle riforme Meiji, riforme che avevano portato il paese dalla sua epoca feudale alla modernità. La struttura militare nipponica era stata interamente sovvertita e il paese era ormai pronto per espandere i propri confini verso la vicina Corea, incurante della potenza bellica del gigante cinese. Senza soffermarci troppo a lungo su questo conflitto, vi basti sapere che la fiducia del sollevante nelle sue capacità fu ben riposta e dopo una serie di cocenti sconfitte, l'imperatore cinese fu costretto nel febbraio del 1895 a firmare il trattato di Shimonoseki, rendendo indipendenti la Corea, Taiwan e altri territori precedentemente sotto il suo controllo, tra cui appunto le isole Shimonoseki. Questo fu il momento in cui tra Cina e Giappone si creò la prima grossa crepa. A seguito della sua vittoria, tuttavia, il Giappone ebbe ben poco tempo per festeggiare. Quando il mondo fu colpito dalla Grande Depressione, infatti, l'economia del paese subì un pesante colpo che causò una forte recessione e nel 1920 la sua era di prosperità giunse ufficialmente al termine. Trattandosi di un blocco economico mondiale e non solo giapponese, il problema giunse proprio da quei paesi americani e europei che, non potendoselo permettere, avevano tagliato le importazioni del commercio con il sollevante, rendendolo sempre più dipendente dal mercato asiatico. Le attività commerciali avevano iniziato a chiudere una dopo l'altra, la disoccupazione era ormai dilagante e i pochi settori che ancora riuscivano a strappare la loro piccola fetta di mercato non bastavano a sopperire con la povertà di un intero paese. Le famiglie diventavano ogni giorno più povere, al punto da costringere i genitori a vendere le proprie figlie ai giri di prostituzione, solo per riuscire a sopravvivere. Ormai alle porte di una vera e propria carestia, l'unica soluzione agli occhi dei giapponesi era conquistare un'altra terra, una abbastanza grande e ricca di risorse da poter sfamare tutti. Una nazione facile da conquistare, magari con la quale avevano già combattuto con successo, una nazione come la Cina. La fame, tuttavia, non basta giustificare gli orrori indicibili di cui il Giappone si sarebbe macchiato di lì a poco. L'attacco alla Cina ebbe inizio nel 1931 con l'invasione della Manciuria da parte dell'esercito giapponese, anche se formalmente la data d'inizio scelta dagli storici è il 7 luglio 1937, giorno del cosiddetto incidente del ponte Marco Polo nelle vicinanze di Wamping. Quello che iniziò come uno scontro a fuoco tra l'esercito attaccante e quello locale divenne ben presto uno scontro aperto, che portò ad una vittoria dei giapponesi e alla conquista della città di Beijing, il primo grande passo dell'esercito nipponico. Il generalissimo cinese Chiang Kai-shek nel frattempo cercò di anticipare le mosse dell'esercito nemico stanziando le truppe migliori nella città di Shanghai, sperando che un'opera di fortificazione potesse arrestare l'avanzata nipponica una volta per tutte. Quella di Shanghai fu una battaglia lunga, estenuante e molto cruenta dove persero la vita numerosi soldati di entrambe le fazioni nel corso di tre lunghi mesi. Buona parte della battaglia venne combattuta con armi corpo a corpo nel centro della città, tuttavia gli sforzi dei soldati cinesi vennero vanificati dall'intervento di bombardamenti aerei e navali che segnalano la fine dello scontro, costringendo i pochi soldati cinesi rimasti a ritirarsi. Il Giappone aveva trionfato ancora una volta, è vero, ma la resistenza cinese aveva ormai demolito l'idea di una vittoria facile e indolore. I soldati rimasti erano malconci, le provviste quasi finite e l'umore era dei peggiori. Questo insieme di fattori portò il governo di Tokyo a sospendere l'operazione per due settimane per poi decidere di riprendere l'avanzata verso la capitale Nanchino il primo dicembre. I soldati erano esausti, affamati, feriti sia nel corpo che nello spirito e fu questo pericoloso insieme di fattori a dar vita ad uno dei capitoli più bui di tutta la storia. La strada verso Nanchino fu costellata di assalti ai villaggi dove gli uomini venivano uccisi a vista, le donne violentate e le case date alle fiamme. Ogni bene veniva saccheggiato, complice la mancanza di approvvigionamenti e gli errori fatti nella preparazione della campagna cinese, che costrinsero i soldati a vivere di quello che riuscivano a sottrarre i nemici rendendoli ancor più aggressivi. Si ricorda un evento in particolare della strada verso Nanchino, lo scontro tra i due ufficiali della sedicesima divisione giapponese, Toshiaki Mukai e Tsuyoshi Noda. A sottolineare la totale assenza di umanità che l'esercito giapponese stava mostrando, i due si sfidarono ad uccidere quanti più civili possibile con il solo uso delle loro spade. Il primo ad arrivare alle 100 vittime avrebbe vinto ufficialmente la gara. I giornali dell'epoca riportarono i loro risultati con aggiornamenti quotidiani, quasi come se la loro fosse una banale gara sportiva, con lo scopo di mostrare al popolo giapponese la risolutezza del suo esercito, azione che sarebbe stata aspramente criticata dagli storici negli anni a venire. Nel frattempo Chiang Kai-shek aveva iniziato a radunare nella capitale un'armata di 100.000 soldati, comprese le truppe ancora in addestramento e i superstiti di Shanghai. Le figure governative vennero evacuate e il controllo della città passò nelle mani del tedesco John Rabe. Posso capire la confusione. Perché un tedesco? Cosa c'entra con la guerra sino-giapponese? Beh, dovete sapere che in quel periodo a Nanchino risiedevano numerosi stranieri. Anche la Cina stava adottando politiche internazionali per il proprio sviluppo e sebbene molti di questi avessero già lasciato la città in vista dell'arrivo dei giapponesi, 27 di loro decisero di restare per documentare ciò che sarebbe accaduto di lì a breve. 15 di loro poi si unirono per formare il Comitato Internazionale per la Zona di Sicurezza di Nanchino, un'area franca delimitata da bandiere nel quartiere ovest della città, dove i civili avrebbero potuto richiedere asilo durante lo scontro armato. Come suo leader venne eletto proprio il tedesco John Rabe, probabilmente per sfruttare i benefici delle sue origini tedesche agli occhi dei soldati nipponici, alleati della Germania. Il 7 dicembre, con l'ultima evacuazione della città, il Comitato Internazionale divenne de facto l'organo governativo di Nanchino. Visto lo stato in cui versava l'esercito cinese, palesemente impreparato alla battaglia, il loro primo impegno fu quello di contattare i generali Tang Shang-Chi e Chiang Kai-shek tramite telegramma per chiedere tre giorni di cessate il fuoco, durante i quali le truppe cinesi si sarebbero potute ritirare onde evitare spargimenti di sangue inutili. La richiesta venne respinta. Così il 10 dicembre l'esercito nipponico, guidato dal generale Iwane Matsui, caricò verso la città attaccando da ogni direzione. Seguirono due giorni di battaglia disastrosa, tanto che il 12 dicembre il generale Tang fu costretto a chiamare la ritirata sotto i costanti bombardamenti aerei del nemico. Questo preciso momento, per Nanchino, fu l'inizio della fine. I soldati cominciarono a disperdersi in maniera disordinata. Alcuni costrinsero i civili a cedere i propri abiti per cercare di mimetizzarsi tra la folla in un disperato tentativo di fuga. All'esercito giapponese era stato impartito un ordine ben chiaro, uccidere ogni persona, bruciare ogni cosa, saccheggiare ogni bene. Questo fu un via libera estremamente pericoloso da consegnare nelle mani di un esercito che, per le ragioni che vedremo a breve, era già intenzionato a compiere un massacro. I giapponesi si scagliarono indistintamente su militari, civili, medici, il tutto giustificato dal pericolo che, secondo loro, avrebbero rappresentato i soldati nascosti in mezzo alla popolazione. I fuggitivi vennero inseguiti fino alle montagne e giustiziati, mentre chiunque venisse sospettato di far parte dell'esercito venne catturato con la promessa di un trattamento eco in caso di resa, promessa che portò diversi soldati a consegnarsi spontaneamente alle autorità nemiche. Vennero presi in custodia circa 60.000 uomini, 20.000 dei quali, ben un terzo del totale, si stima fossero semplici civili innocenti. Dopodiché questi furono divisi in gruppi, guidati fino alle rive del fiume Yangtze, lontano dalla città, e giustiziati senza pietà a colpi di fucile. All'esercito giapponese ci vollero ore intere per portare a termine questo sterminio e altre tante per trafiggere ripetutamente con la baionetta i corpi uno ad uno, per assicurarsi che fossero realmente deceduti. La città, ormai, era un vero e proprio macello a cielo aperto. Ai bordi delle strade si potevano vedere pile di corpi, così l'esercito giapponese fu costretto a scaricarli nel fiume e lasciare che l'area venisse ripulita dalla corrente. Una volta eliminato l'esercito, venne il turno dei civili. Senza che nessuno potesse più fermarli, i giapponesi cominciarono quindi a catturare uomini, donne, bambini e anziani con il solo scopo di divertirsi. Alcune persone vennero sepolte vive, a volte solo fino al busto, per lasciare che i cani facessero il resto. Altri furono decapitati, mutilati o smembrati solo per vedere come avrebbe reagito il loro corpo, o più semplicemente, per il puro divertimento nel farlo. Per un periodo, l'unità EI 1644, arrivò a condurre esperimenti medici all'interno della città, su cavie umane. Molti civili poi vennero inceneriti vivi, investiti con i carri armati, usati per far pratica con le armi, i bambini vennero impalati con le baionette davanti ai genitori. L'esercito giapponese aveva iniziato a torturare sistematicamente la popolazione. Qualcuno arrivò addirittura ad ingerire parti delle vittime come cuore o fegato, sfociando in atti di cannibalismo. Sebbene i confini della zona franca di Nanchino venissero quantomeno tenuti in considerazione durante i conflitti a fuoco, nemmeno i rifugiati erano al sicuro. Capitava spesso, secondo le testimonianze degli stranieri presenti, che i soldati facessero irruzione nel campo alla ricerca di soldati ancora sotto copertura, finendo per trascinare fuori centinaia di uomini alla volta. Il loro destino veniva segnato nell'esatto momento in cui superavano i confini del campo. Nonostante la scusa ufficiale fosse quella di dover trovare i soldati nascosti, oltre agli uomini venivano portate via anche molte donne, e il loro era un destino ben peggiore della morte. Qui sono costretto a darvi un secondo avvertimento, perché ora ci stiamo per addentrare nelle pratiche svolte dai soldati giapponesi ai danni delle donne, delle bambine e delle anziane del posto. Se volete saltare questa parte, perché giustamente non ve la sentite, vi lascio qui sotto il minutaggio a cui potete riprendere la visione. Il massacro di Nanchino è passato alla storia con diversi nomi, ma quello maggiormente riconosciuto dagli storici è lo stupro di Nanchino. Inutile sottolineare il perché di questa scelta, credo che però possa dare un'idea della scala e della natura delle brutali violenze avvenute in quei giorni, tanto da rendere quello di Nanchino lo stupro di guerra più brutale e su larga scala mai avvenuto nella storia moderna, secondo solo a quello avvenuto nel 1971 durante la guerra di liberazione del Bangladesh. Stando alle stime, più di 20.000 donne subirono violenze da parte dei soldati nel corso dei mesi successivi alla conquista di Nanchino, comprese bambine, anziane, donne gravide e suore, senza contare quelle deportate per essere introdotte nei circuiti di prostituzione delle comfort stations. In questo l'esercito giapponese fu estremamente metodico. Se entrando in una casa per il saccheggio veniva trovata una donna, indipendentemente da età, condizione fisica o altro, questa veniva presa e violentata brutalmente, a volte anche da 40 soldati in contemporanea. Questo avveniva a tutte le ore, in qualunque luogo e davanti a qualsivoglia pubblico, fossero questi parenti, bambini, cariche religiose o folle di civili nel bel mezzo di una strada. Se durante l'atto i soldati venivano disturbati, fosse questo da un marito che provava a proteggere la moglie, da un genitore o da un neonato che non smetteva di piangere, si procedeva con l'eliminazione del problema per poi proseguire con l'atto. Per una donna non c'era alcuna speranza dopo che un soldato aveva posato gli occhi su di lei. Molte delle vittime, dopo aver subito violenza per ore, venivano poi uccise. In realtà all'esercito giapponese lo stupro delle vittime era proibito, perciò gli ufficiali avevano iniziato a permetterlo a patto che i soldati uccidessero le donne subito dopo, onde evitare che potessero testimoniare. Presto il semplice atto iniziò a stancare i soldati che decisero di cercare un maggiore intrattenimento torturando le vittime prima e dopo averlo compiuto. Vennero creati dei giochi di violenza e tortura a scopo ricreativo, atti di una crudeltà indicibile che portarono ben presto ad avere strade piene di corpi femminili. Nemmeno gli uomini furono risparmiati. Dato che per un soldato giapponese sarebbe stato impensabile unirsi ad un uomo, i civili del posto venivano costretti a compiere atti sessuali davanti ad una folla di militari pronte ad umiliarli. Capitava anche che venisse forzato l'incesto, portando madre ad unirsi ai figli, padre alle figlie o fratelli con le proprie sorelle. Tutto al solo scopo di umiliare gli sconfitti e divertire i vincitori. Ma grazie alla presenza di stranieri nella zona di sicurezza, ben presto le voci di ciò che stava accadendo tra le mura di Nanchino giunsero all'attenzione della comunità internazionale. Questo fece infuriare i giapponesi che pretesero l'immediata deportazione degli stranieri presenti e la destituzione dell'area franca. Tuttavia, ormai, per loro era troppo tardi. I paesi occidentali iniziarono a fare pressioni affinché lo stupro giungesse al termine quanto prima. In tutta risposta, il governo del Giappone, temendo per la reputazione del paese, decise di rispondere alle accuse non punendo il suo esercito, ma istituendo un sistema di prostituzione tra i ranghi affinché i soldati potessero sfogare le loro pulsioni su delle donne inviate al fronte appositamente per lo scopo. Queste presero il nome di Comfort Women, l'ennesimo stupro perpetrato dall'esercito giapponese. Nonostante le pressioni internazionali, le violenze non cessarono, le torture e lo sterminio arbitrario men che meno semplicemente andarono diminuendo una volta passate le prime 6-8 settimane dall'inizio dell'assedio. Terminato poi il 14 agosto 1945 con la resa del Giappone a seguito dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. Per capire il perché questo massacro abbia preso il nome di stupro di Nanchino, dando quindi un peso maggiore alle violenze subite dalle donne del posto, è necessario però capire l'importanza della violenza all'interno di un conflitto. Inutile girarci troppo attorno, lo stupro è un'arma. Non viene fatto per sfogare delle pulsioni, dei desideri. Si tratta semplicemente di un'imposizione della propria forza sulla vittima, una dimostrazione di aggressione e dominazione assoluta. È un atto che viene perpetrato con lo scopo di degradare, di umiliare, di soggiogare e di conquistare definitivamente la persona che lo subisce. Una vera e propria forma di tortura, al contempo fisica e psicologica. Anche gli effetti a livello psicologico sono simili a quelli di una tortura. PTSD, disturbi del sonno, depressione e stato di allerta costante, ad esempio. Quando si parla di guerra, lo stupro prende l'accezione di un vero e proprio genocidio. Numerosi casi, come lo stesso massacro di Nanchino, dimostrano come la violenza utilizzata in questi casi sia notevolmente eccessiva rispetto a quella che sarebbe stata necessaria per compiere il solo atto. Il suo scopo in questi casi è traumatizzare, terrorizzare e distruggere le comunità del popolo colpito, divenendo in questo modo parte integrante di una strategia militare vera e propria. L'atto dello stupro durante un conflitto non solo colpisce un paese nello spirito, ma serve come dimostrazione della sua totale impotenza, lasciando cicatrici che rimarranno anche dopo che la guerra sarà conclusa. Le stesse vittime, specialmente se parliamo di un contesto asiatico, finiranno poi per essere viste come il simbolo vivente della sconfitta, venendo emarginate dalla società assieme alla loro prole. Prole che, in questi casi, porterà suo malgrado a mantenere una traccia indelebile del DNA degli oppressori all'interno dell'etnia oppressa. Lo stupro di Nankino, altro non è che un'espressione di cruda violenza guidata da un sentimento di odio razziale unito ad una innegabile misoginia, atto a spezzare definitivamente lo spirito del nemico attraverso la brutalizzazione di 80.000 vittime, donne e bambine. Per gli orrori compiuti a Nankino, i comandanti dell'esercito giapponese stanziato in Cina vennero messi sotto processo, compreso il principe Yasuhiko Asaka, l'ufficiale in comando durante il pieno periodo del massacro. Asaka, noto per il suo pessimo atteggiamento, venne assegnato alla campagna cinese dall'imperatore Hirohito in persona affinché potesse fare ammenda. Giunse a Nankino il 5 dicembre, poco prima dell'inizio dell'assalto, e fu colui che diede l'ordine di uccidere ogni persona, bruciare ogni cosa e saccheggiare ogni bene. Durante il processo ebbe l'ardire di affermare che nessun massacro era avvenuto a Nankino e che le sue azioni furono dettate dal pericolo che i soldati nascosti tra i civili rappresentavano per il suo esercito. In quanto parte della famiglia imperiale, Asaka venne infine assolto, tuttavia le sue cariche nobiliari furono abolite, portandola a vivere come un comune cittadino assieme alla sua famiglia. Infine, il 12 novembre 1948, il Tribunale Militare Internazionale condannò a morte sette criminali di guerra, tra cui Iwane Matsui, generale del principe Asaka, che si addossò la colpa per proteggerlo, e Koki Hirota, ex primo ministro giapponese. Toshiaki Mukai e Tsuyoshi Noda, i due uomini che durante il conflitto si erano sfidati a chi avrebbe ucciso per primo 100 persone a colpi di katana, vennero entrambi estradati in Cina, dove il Tribunale di Nankino li giudicò colpevoli, condannandoli a morte per fucilazione. Oltre alle accuse di sterminio di civili, sperimentazione biologica, uso di armi chimiche, tortura, lavori forzati, schiavitù sessuale e cannibalismo, il Giappone dovette poi affrontare processi per alcune istanze molto specifiche, quali le sperimentazioni umane dell'unità 731, le navi inferno per la tratta di prigionieri, la costruzione della ferrovia Burma, la marcia mortale di Batan e il sistema di prostituzione forzata delle Comfort Women, tutti argomenti che in futuro vedranno dei video dedicati. A questo punto, però, non volendomi limitare a riportare i semplici fatti, rimane ancora un grande interrogativo a cui rispondere. Cosa può aver spinto il Giappone di quell'epoca ad agire con tanta violenza? In realtà, le motivazioni sono piuttosto semplici da individuare, motivazioni delle quali, ad oggi, nella nostra approfondita analisi della sua cultura, non avevamo ancora mai parlato. Quali fattori possono avere abbastanza risonanza da portare un paese verso una direzione tanto drastica? In primis, senza dubbio, il cambiamento improvviso di un paradigma durato millenni. Sul finire del XIX secolo, millenni di storia giapponese sono stati sbriciolati dalla forte implosione dello shokunato e, ovviamente, dall'apertura verso i paesi occidentali. Questo nuovo sistema, basato sulla fedeltà all'imperatore e alla lealtà verso la bandiera, portò inevitabilmente all'ascesa di una cultura militarista fortemente improntata sul patriottismo. Vennero ripresi i passaggi del Bushido, l'antica via del guerriero tanto cara ai samurai, e adattati a questa nuova società, portando ad un indottrinamento dei più giovani verso l'importanza del sacrificio in nome del proprio paese. Questa corruzione dei precetti del Bushido è proprio l'elemento che porterà in seguito all'adozione di tattiche suicide come i famosi kamikaze. Per i giapponesi dell'epoca non esisteva la resa, c'erano solo vittoria o morte, uccidere o essere uccisi, o, alla peggio, togliersi la vita piuttosto che venire catturati. Prendete l'esempio della resa di Nanchino. Agli occhi dei giapponesi, chi preferiva arrendersi piuttosto che morire non meritava pietà. Non solo, ma l'indottrinamento verso un patriottismo eccessivo, giustificato dalle presunte origini divine dell'imperatore, ha anche un altro effetto collaterale, il senso di superiorità razziale. Il Giappone è da sempre un paese dall'etnia molto omogenea. Pensate che anche oggi, in un periodo di forte globalizzazione, gli stranieri residenti nel paese rappresentano un mero 3% della popolazione totale. Questo, ai loro occhi, contribuì a giustificare il trattamento inumano riservato ai prigionieri di guerra. Qualsiasi cosa l'esercito giapponese facesse a persone di etnia diversa era in nome di un dio e, di conseguenza, giusto. Agli occhi di un giovane soldato sembrava quasi scontato che fossero i giapponesi a dover dominare sulle altre terre, privando in automatico ogni altra etnia della sua umanità. L'obiettivo a quel punto era soltanto uno, sgominare questi esseri considerati inferiori con ogni mezzo ed unire le terre sotto la bandiera di un unico dio imperatore. Questo insieme di elementi è una delle conseguenze di un'apertura al mondo avvenuta in maniera troppo drastica ed improvvisa, per di più alle porte di un primo conflitto mondiale. Non a caso un altro elemento che ha contribuito alle azioni del Giappone in guerra è legato ancora una volta alla sfera militare. Nel preparare il conflitto che si sarebbe combattuto sul territorio cinese, molti giovani soldati vennero educati fin dall'infanzia alla conquista del loro obiettivo attraverso la normalizzazione della violenza. Questa veniva considerata l'unico linguaggio di rilievo, portando ad una desensibilizzazione verso la brutalità e l'omicidio, soprattutto verso popoli che, come abbiamo detto, venivano presentati come inferiori ed inumani. Questa pratica puntava a privare i soldati di empatia verso il nemico, sia normalizzando l'aggressione, sia liberandoli dai vincoli dettati dalla morale umana. Non solo, ma gli stessi soldati venivano addestrati attraverso l'uso della violenza, subendo umiliazioni e percosse dai superiori in continuazione. Una volta arrivati sul campo di battaglia, molti di questi finivano per sfociare in atti brutali per una sorta di rivalsa, un fenomeno che viene chiamato trasferimento dell'oppressione. C'è infine un ultimo elemento, ovvero quello della posizione del Giappone nello scenario internazionale. Seguitemi, il Giappone per secoli è stato chiuso nella sua bolla, per poi ritrovarsi scagliato nel mezzo di un mondo molto più vasto del suo arcipelago in un quadro politico già formato da tempo. Entrando a far parte di un contesto così ampio, ovviamente il sollevante si sarebbe dovuto adattare alle sue regole e ai trattati in vigore, tutti accordi che qualcun altro aveva stabilito in precedenza. Sebbene all'inizio l'elite niponica abbia visto l'accettazione dello scenario mondiale come la possibilità di diventarne parte attiva, ben presto iniziarono i primi malcontenti. Nel 1931, dopo l'attacco alla Manciuria, il Giappone si ritirò ufficialmente dalla Società delle Nazioni, vedendo con risentimento i paesi che ne facevano parte, troppo lontani nella loro concezione di pace rispetto ai leader nipponici. Stabilito che un accordo con i paesi occidentali era ormai impossibile da ottenere e vedendo come Germania e Italia avessero fatto lo stesso, il Giappone decise infine di non volersi adeguare in alcun modo allo status quo definito dal resto del mondo e, anzi, di voler dimostrare qualcosa. L'unione di violenza normalizzata, obbedienza cieca, trasferimento dell'oppressione, ideologie razziali tossiche e la necessità di dimostrare la propria potenza agli stati occidentali portarono ad uno sfogo brutale ed incontrollato della propria rabbia sul popolo cinese. Ovviamente tutto questo non vuole essere assolutamente una giustificazione per quanto accaduto, anzi è semplicemente un'analisi delle storture culturali che hanno portato ad un atto così tanto efferato. Un episodio che è costato la vita ad un numero incalcolabile di persone e, quando dico incalcolabile, c'è una ragione che può ancora peggiorare la situazione. Sebbene il numero stimato di vittime si aggiri attorno alle 300.000, non è infatti possibile sapere con certezza quante persone abbiano perso la vita nanchino durante l'assedio giapponese e questo è causato in parte dal forte revisionismo storico che ha caratterizzato l'intera vicenda. Per la scrittura di questo video, infatti, sono state necessarie ricerche nelle storiografie di entrambi i paesi coinvolti, dato che i dati riportati variano molto. Da un lato abbiamo il resoconto cinese, basato su testimonianze dirette di persone sopravvissute al massacro, dall'altro invece quello giapponese, influenzato da un forte negazionismo delle istituzioni nel corso degli anni. Basti pensare che figure di spicco del paese, come l'ex ministro di giustizia Shigeto Nagano, abbia affermato pubblicamente che il massacro è solo una fabbricazione dei cinesi ai danni del sollevante. È bene notare però che questo atteggiamento non viene tenuto solo da Nagano e qualche amico al baretto sotto casa, ma da gran parte dei membri del partito conservatore giapponese, i quali negli anni hanno fatto forti pressioni affinché la teoria del complotto portasse ad una vera e propria cancellazione dell'evento agli occhi del mondo. Vi basti pensare a quanti libri di testo per le scuole giapponesi abbiano subito importanti censure in merito, riflettendosi inevitabilmente sulla concezione che le nuove generazioni hanno del massacro di Nanchino, che tra l'altro in tutti e otto i testi utilizzati oggi nelle scuole si ostinano a chiamare incidente di Nanchino. Un incidente è quando un cameriere rovescia un bicchiere di vino su un cliente, quando per errore metti i colorati insieme ai bianchi in lavatrice, quando dimentichi le scarpe slacciate e inciampi per le scale, non quando stermini 300.000 persone. Quello no, non lo puoi chiamare incidente. Le poche informazioni in merito al massacro riportate in questi libri poi tendono ad essere imprecise, ad omettere dettagli importanti, a giocare con i numeri delle vittime un po' a convenienza. Anzi, l'unico testo che ha riportato il numero esatto, il Nihon Shoseki, ha subito una tempesta di merda da parte dei conservatori revisionisti che lo ha portato ad essere usato soltanto nel 3% delle scuole. Al contrario, come si può ben immaginare, testi utilizzati in Cina come il New Century Standard History Textbook in Mandatory Education descrivono gli avvenimenti in maniera molto dettagliata, non concedendosi il lusso di omettere informazioni essenziali ai fini della sua piena comprensione. Questo ha portato ad un divario significativo nella concezione che hanno oggi Giappone e Cina dell'evento. Se oggi i giapponesi sono portati ad avere dubbi in merito all'evento, quindi, le ragioni sono principalmente attribuibili al Partito Conservatore, che per anni ha cercato di insabbiare gli avvenimenti di quel lontano 1937 attraverso pesanti campagne di revisionismo e censura dei media. Ovviamente la negazione di un crimine di guerra tanto importante ha causato nei paesi esteri reazioni decisamente avverse, perché è vero che non sono stati i soli a compiere atrocità durante gli anni del conflitto, ma quantomeno la Germania, con la genuflessione di Varsavia, ha cercato di fare ammenda per gli orrori della guerra, provando a fare i conti con il proprio passato. E magari anche oggi qualcuno dovrebbe fare ammenda per il suo presente, non essere difeso dalla televisione nazionale con dei comunicati agghiaccianti. E comunque se nei paesi stranieri il revisionismo è stato mal visto, figuratevi in Cina, dove il massacro di Nanchino, oggi, è visto come simbolo dell'orgoglio nazionalista e uno degli importanti fondamenti su cui si basa l'intera identità del paese. Il tragico evento, infatti, è stato utilizzato dal Partito Comunista cinese per fare leva sul popolo, un collante che avrebbe unito le persone, rinforzando al contempo l'idea che il Partito sarebbe stato il perfetto difensore della stabilità e della prosperità. Proprio basando la propria narrazione sulle ingiustizie subite, il Partito Comunista è quindi riuscito più facilmente a chiudere il popolo cinese sotto la sua campana di vetro, tagliando fuori il resto del mondo. Questo ha inevitabilmente segnato i rapporti internazionali del paese, sia nei confronti dell'Occidente, ma soprattutto verso lo stesso Giappone. Ancora oggi le relazioni tra i due paesi rimangono estremamente instabili e possiamo identificare diversi punti di particolare tensione. Intanto le isole Senkaku o Diaoyu, il cui nome cambia a seconda di chi ne rivendica la proprietà. Queste isole completamente disabitate, cedute dalla Cina dopo il primo conflitto sino-giapponese, oggi vengono reclamate da entrambi i paesi in un costante tira e molla più ideologico che altro, vista la loro effettiva inutilità. Sono degli isolotti di 7 km quadrati piazzati là solo per farli litigare. Poi ci sono gli stessi governi dei due paesi. Sia in Cina che in Giappone troviamo due partiti estremamente conservatori e legati al passato, dove quello giapponese teme per l'ascesa della Cina come potenza mondiale e militare, mentre quello cinese continua a far leva su un anchino come punto saldo della narrativa nazionale. Non dimentichiamoci poi di Taiwan, un punto estremamente caldo del quale si sente parlare anche troppo spesso negli ultimi tempi. Che il Giappone e Taiwan abbiano dei legami, siano questi economici, strategici o riguardanti la loro visione della Cina, è innegabile. Dal canto suo invece sappiamo che la Cina vorrebbe riprendere il controllo di Taiwan, considerandola ancora sua di diritto, e la consapevolezza che il Giappone interverrebbe in suo scorso di certo non aiuta a placare gli animi. Ci sarebbero poi un'infinità di altri motivi, molte altre cose da dire, per la preparazione di questo video ho studiato non so neanche più quante pagine di libri, tesi, paper universitari, però credo che aggiungere altro ad esso sarebbe superfluo. Il video è durato abbastanza e voglio darvi il tempo di assorbire quanto ci siamo detti. È stata dura, ma alla fine anche il massacro di Nanchino lo abbiamo analizzato insieme. Credetemi, ci sono tante cose che ho dovuto omettere sia per non urtare la vostra sensibilità sia per rispettare le polisi di YouTube, ma mi sono sobbarcato una quantità di atrocità descritte nel dettaglio che veramente ho fatto fatica a dormirci la notte. Io spero che il video vi sia piaciuto nonostante la pesantezza di un argomento tanto vasto e come sempre vi invito a lasciarmi un like, condividere e iscrivervi al canale per spronarmi a portare ancora tanti altri racconti. Detto ciò io ora vi devo salutare. Questo video mi ha prosciugato l'anima e non vedo l'ora di cominciarne uno molto più leggero per la prossima settimana. Voi mi raccomando, fatevi trovare qui come sempre per fare altri due passi insieme tra le infinite storie del nostro mondo. Un saluto!